Mamma mia signori, mamma mia signori, e pur si muove, che agonia, la Juventus parteciperà alla Champions League 2024-2025. Noi ormai le cose sul campo non ce le vogliamo più prendere, non ci piace guadagnarci qualcosa quando tocca a noi. Dopo il mondiale pre-club festeggiato post terminazione del Napoli in Champions League col Barcellona, questa sera possiamo tirare un grande, grandissimo, enorme sospiro di sollievo grazie alla vittoria dell'Atalanta. E quanto è beffardo il destino, davvero quanto è ironico il destino, perché la Juve ottiene la qualificazione proprio grazie a Gasperini che sarà il prossimo avversario, mercoledì 15 giocheremo proprio contro Gasperini in Atalanta in una finale di Coppa Italia che secondo me sarà tostissimo, io non so se avete visto la partita questa sera dell'Atalanta, è un 2-1 per la Dea, fintissimo, veramente fintissimo. Tra l'altro io ho Lukman e Copmeners al fantacalcio, il mio avversario non era arrivato a 66, a me mancava un gol per arrivarci praticamente in maniera aritmetica, nel finale si sono mangiati quella roba proprio loro due che veramente mi hanno dato il sangue al cervello, però questa partita ci regala un verdetto, ci regala un verdetto che è Juventus qualificata nella Champions League 2024-2025 e avevo paura veramente, c'è stato un momento in stagione che ho proprio pensato non la raggiungiamo, non ce la facciamo, siamo terrificanti. 15 punti in 15 partite comunque arriviamo in Champions, meno male che c'è una quinta squadra quest'anno, veramente, meno male che c'è una quinta squadra. Atalanta è forte ragazzi, Atalanta è veramente molto forte, ha fatto una partita in cui poteva segnare secondo me 7-8 gol, proprio tranquillamente con De Ketelare che fa una doppietta incredibile, perché veramente al di là dei due gol segnati nel primo tempo, De Ketelare sembrava un'era di Dio, la reincarnazione di Riccardo Cacau, quasi a un certo punto. Ogni volta che c'era lui in possesso del pallone succedeva qualcosa, gol, occasioni, pali, traverse, veramente di tutto e di più, di tutto e di più. E io ho una paura terrificante in vista di mercoledì perché loro sono una squadra che gioca con una tranquillità, una spensieratezza invidiabile. Io invidio molto in questo momento quello che provano a Bergamo. E lo so che è paradossale perché la Juventus e l'Atalanta hanno storie differenti, però guardate quanto è un tutt'uno, tutti insieme, il pubblico, l'allenatore, i calciatori, la società, sono cose che mi mancano ragazzi, non lo dico proprio tranquillamente, sono cose che mi mancano e ho necessità di ritrovare questa unione completa del mondo Juventus, non ce l'abbiamo, siamo ben distanti da questa roba qui. Mi tocca sentire che è la frenesia il problema della Juve, al terzo anno e tre stagioni che sono una fotocoppia l'una dell'altra, con la Coppa Italia che può essere l'unica eccezione, cioè almeno un minimo trofeo in tre anni, sentire che la frenesia è la responsabile di questi risultati della Juve. Dire, eh, ma l'ultimo passaggio lo sbagliamo, eh, dobbiamo ancora migliorare. Oh ragazzi, ma si può al termine del terzo anno affrontare ancora questi ragionamenti e parlare di frenesia? parlare di frenesia? Sul serio? Rabiola ha detto chiaramente, io non so se l'anno prossimo sarò ancora qui e anche tanti membri dello staff. Allegri continua a parlare, continua a sottolineare questa voglia di giocare all'indovino, eh, tra dieci giorni, quindici giorni saprete tutto. Ragazzi questa roba ha anche un po' stancato, eh, un po' come ne abbiamo parlato ieri, quindi Allegri a questo punto sa il suo futuro e ha conoscenza del suo futuro. Io vi dico una cosa, eh, voglio essere anche un po' bastardo da questo punto di vista. Dato che si è sempre detto, ne parleremo una volta raggiunti gli obiettivi, ok, la Juventus l'obiettivo l'ha raggiunto, la Champions League, è qualificata, benissimo. Rimangano tre partite, Allegri sa il suo futuro? Io dico la verità, dato che non c'è un contracolpo psicologico in campionato da prendere, dato che è la partita col Bologna di lunedì, venti, sarà anche un pochettino una partita soltanto per la faccia, ma noi l'importante era l'obiettivo, quindi chi se ne frega della faccia, chi se ne frega di tutto il resto, non ci interessa, l'obiettivo è stato raggiunto, tutto il resto è noia, non ci interessa, se arriveremo quinti magari in campionato non è un problema, perché tanto gli obiettivi sono stati raggiunti. Non mi dispiacerebbe un comunicato già stasera, non mi dispiacerebbe un comunicato domani mattina, non mi dispiacerebbe arrivare a sapere, a conoscere il destino ufficiale di Allegri proprio adesso, perché poi io vi ho parlato dell'allenatore che ha delle colpe, dei calciatori che hanno delle colpe. La società deve intervenire a un certo punto, non si può stare sempre in silenzio, capisco le dinamiche legate al silenzio, lo so, so anche le tempistiche e tutto quanto, però poi si diventa complici, dopo il tifoso un po' si rompe le palle, perché anche questa volta l'obiettivo arriva, non per merito tuo, devi sempre sperare nell'incastro di quegli altri, e la Juventus è già la seconda volta che si ritrova negli ultimi quattro anni, quindi la metà, due volte su quattro anni, alle ultimissime battute della stagione a sperare di entrare in Champions. Due anni fa c'è entrata l'ultima giornata con 78 punti da quarta, adesso siamo ben lontani dei 78 punti e siamo anche al quinto posto probabilmente, perché poi ci sarà l'Atalanta che dovrà recuperare e col Bologna io non ho idea di cosa faremo, che figura sarà quella che faremo, però ammetto che non mi dispiacerebbe un comunicato dalla società che annuncia già adesso quello che sarà il futuro della Juventus. Vi dico anche la verità, mi piacerebbe anche essere bastardo, e cioè non avere nemmeno Allegri in panchina mercoledì sera. Dico la verità, perché dopo un girone di ritorno come questo, in cui la Juventus si è preoccupata principalmente di agguantare la Champions, perché era veramente preoccupata che potesse succedere qualcosa per non arrivare anche in Champions, ora poi la dirigenza potrebbe avere dei problemi, vincere la Coppa Italia e non vincere la Coppa Italia per la Juve non fa differenza, è solo un contentino in più, è qualcosa che può dire, ma se dai la stagione te la mandi giù un po' meno amara, guardi quello che è successo e dici è uno schifo, però almeno è un piccolissimo asterisco, io l'ho sempre descritto come il cioccolatino dopo il caffè, il contorno non la portata principale. Ecco, non mi dispiacerebbe giocarmi la finale di Coppa Italia senza Allegri, anche per fargli capire un pochettino quello che è l'andazzo e senza limitarci sempre a parlare di obiettivi, raggiunti, massimi, questo è quello che mi ha chiesto la società, come si fa anche solo a prendere in considerazione l'ipotesi di separarsi, ecco adesso abbiamo raggiunto gli obiettivi, non succederà mai, Allegri sarà in panchina per la finale di Coppa Italia, ne sono ben convinto anch'io, però almeno il comunicato che annuncia la separazione anche prima della finale di Coppa Italia non mi dispiacerebbe, perché adesso non abbiamo più niente da nascondere, possiamo giocare tutti a carte scoperte, il blef è ormai finito, il segreto di Pulcinella è chiaro a tutti, la Juventus è qualificata alla Champions League, possiamo stare un po' più tranquilli adesso per gli ultimi minuti, anche se il campo si è espresso e siamo stati veramente inguardabili, incommentabili, incommentabili, perché siamo stati una vergogna, mercoledì in Coppa Italia sarà un disastro, anzi voglio essere il più chiaro possibile, calcio è uno sport strano, è uno sport difficile da pronosticare, però guardando le prestazioni e i risultati negli ultimi due o tre mesi di Juventus e Atalanta viene veramente complicato pensare che la Juve possa trionfare mercoledì sera, poi le vie del signore sono infinite, però mi sembra veramente una sfida impari e stiamo parlando di Juventus contro Atalanta, Gasperini contro Allegri, quello che ha vinto tanto contro quello che non ha vinto niente, i trofei non vanno in campo, a meno che non ti chiami Real Madrid e non stai giocando la Champions League preghiamo forte ragazzi, preghiamo forte, ma intanto siamo in Champions